Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su LEGO Marvel Super Hero 2 Rackalta Minikit al completamento del 100% per raccogliere tutti i vari personaggi Vi faccio vedere oggi dove ci troviamo In pratica, se guardate un poco qua, ci mancano pochissimi livelli per completare tutto Naturalmente, come se avete un video, come se mi mette un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace Oggi ci andiamo a fare creature di ala, non abbiamo preso niente Quindi, ci mettiamo qui, abbiamo quasi compilato tutta la griglia, mancano alcune personaggi anche ora Ci vediamo in partita LEGO Avenger già sbloccato e stiamo a posto Guardiamo bene perché qua ho visto che ci sono un po' di zone diverse Ecco, là già credo che ci sia qualcosa Ok, ci spostiamo subito con... ah, freccia nera, ok, abbiamo freccia nera Il primo lo becchia... no, aspetta, il primo lo be... ammazza freccia nera, iniziamo male così, eh Lo dovremo beccare qua dentro, quindi, attenzione Dovrebbe essere quasi pronto Perfetto Primo mini kit Becchiato E stiamo a posto Il secondo mini kit sta qua dentro Allora, qua dentro, se ho capito bene, dovrebbe essere abbastanza complicata questa situazione Comunque Vediamo un po' Perché non so se ho capito bene come funziona, eh Ok Ah, ok, quindi in pratica Mi devo posizionare e mettere Non ho capito sta qua Aspetta, vediamo un po' Ok, così dovrebbe andare bene, penso, no? Sì, penso di sì Mi serve uno che aggancia Uno che aggancia Mi serve, vai Perfetto Non so se siamo stati fortunati Se è stato culo O bisogna andare così Vabbè, comunque Anche questo lo abbiamo sprecchiato Il secondo sta qua dentro C'è il terzo, veramente Che dovrebbe essere Ok Ah, personaggio Quindi già abbiamo sbloccato il personaggio Meglio così Ok, a questo punto ci conviene spostarci qua Ma non credo che tu vai bene, freccia nera Allora, mi occorrerebbe, sai chi? Ecco, forse lei dovrebbe andare bene, vai Perfetto Allora, sblocchiamo sta faccenda Aspetta, dove sta? Ah, sta all'altra Ammazza, sta lontanissimo Ok Andiamo di farcela Allora, così dovremmo farcela Vai Aiae, non fa niente, non fa niente, non fa niente Prosegui e vai Perfetto Dopo aver rotto questa cosa Aiai, 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 mi sono fatto male Ok, dovremmo praticamente Rompere quella parte dorata là Mi sa che Iron Man dovrebbe andare abbastanza bene Vai, rasiamo tutto Ok Sì, ci sta, ci sta, ci sta Vai Iron Man, vai salta Quindi questo lo becchiamo Ora dobbiamo praticamente andare qua sopra Allora, vediamo un po' Se, se mi dai un attimo freccia nera Andiamo un attimo qua sopra Questo non va bene Il cane no, non credo che si possa arrampicare Allora, ci becchiamo Un attimo Captain America Mi servirebbe un altro Che va là sopra No Mazza, quella sta ancora là dentro Iron Man, metti un attimo qua sopra Vai Non Ok Vabbè, facciamo doppio Captain America Vai Perfetto In maniera tale che si sblocchia L'altro omni Oh, guarda In questa stanza Abbiamo beccato una marea Porca musica Il personaggio L'impressione è stata che Questa sta ancora qua dentro Questa, te lo voglio dire Ok Vai freccia nera Beccati anche questo Attenzione Ok Dobbiamo rompere anche le statuette qua sopra Perché altrimenti poi dopo Non possiamo più tornare indietro Quindi Attenzione Vai Iron Man Vai Perfetto Ok, spatti Stiamo a due Con questa stiamo a tre Fantastico E poi Ok Ok, appena siamo arrivati in questa stanza Dobbiamo stare un pochettino attenti Perché dobbiamo innanzitutto far pulire questa gentaglia Poi Ci Becchiamo Il primo Allora Ricordatevi sempre che dobbiamo rompere anche sempre le statuette là Quindi non ci dimentichiamo Perfetto Perfetto Quindi anche questo l'abbiamo smontato Dovrei riuscire a Rompere un attimo questa stanza E qua non ce la faccio Vabbè dai Non fa niente Poi ci becchiamo Il prossimo Che dovrebbe stare Qua dentro Allora dobbiamo schiassare un po' di roba qua sopra Perfetto Vai Mi serve Lei Vai Vediamo se ce la facciamo No Ti devi mettere qua sopra Vai Ok Allora Iniziamo Che non ho capito bene che cosa dobbiamo fare Forse Ah ok Mi devo spostare Perfetto Grazie Merci Quindi adesso andiamo di qua Ok Aspetta E qua non si apre Ok così Allora Ah ma sta là sopra Quello Ah eccolo qua Sta là sopra Vada Abbiamo becchiato Ok becchiato Grazie Merci Non ce la faccio così Forse con un po' di rincorsa Perfetto Grazie Ok Così dovremmo beccarlo Anche l'altro minikit L'abbiamo preso O meglio Ancora l'abbiamo preso L'abbiamo becchiato Becchiato anche quest'altro Ora Ah l'altro sta là Quindi Dopo lo becchiamo Sicuramente Un altro minikit Sta qua dietro Aspetta che qua Sta ancora tutto Inserrato Ok anche questo L'abbiamo becchiato Grazie Poi Che cosa dobbiamo fare Ok Dopo aver Fatto urlare Il megafono Ci sarà utile Perché In questo Modo Se ho capito bene Infatti Eccolo qua Se ne dovrebbe liberare Un altro Che sta praticamente qua Eccolo qua Vediamo un po' Se riusciamo a beccarlo Penso di sì Aspetta un attimo Perché ci sta questo tizio Che mi sta dando Un po' di fastidio Forse così lo devo rompere Aspettate Vediamo un po' Se riusciamo Così a capire Vai No Ah no Mi serve pantera nera Sbagliato Black Panther Vai Black Panther Vai Dovevamo scavare Ok Quindi anche questo L'abbiamo becchiato A questo punto A questo punto Doviamo liberare Stanley Che penso Che stia Qua dentro Perché lo vedo là Allora Proviamo un po' Perché vi dico La verità Non è che ho capito bene Se qua Forse devo mettere I numeri più bassi Forse Se là è 4 Qua mettiamo Il 2 Perché questo non si cambia No Questo non si cambia Ok Ah ok Sono andato un po' A fortuna Vediamo la verità Ma penso che L'abbiamo liberato Ok Anche Stanley L'abbiamo liberato Quindi ci mancano Due mini kit Solo che Uno sta là dentro Dobbiamo prima Rompere Questa sorta Tipo di scudo Perché dobbiamo Entrare là dentro Ora dovremmo Aver liberato Il campo magnetico E possiamo entrare A rompere L'ultima statua E poi dobbiamo Becchiarci Due cosi d'oro Là Per becchiarci Gli ultimi mini kit Facendo sempre Attenzione A sti tizietti Qua Che ci romperanno Le scatole In continuazione Che ve lo dico a fare Quindi se una cosa migliore È Far fuori Un attimo d'oro Così non dovremmo A avere Tante rugne O almeno Così si spera Magari cercano di fare Anche una mossa speciale Così Disintegriamo Anche subito Bravo Freccia nera Magari Prima non esageriamo Attenzione A questi qua Se non si leva Il campo magnetico Non possiamo fare Una mazza Vabbè dai Becchiamoci Un attimo Subito Ok Quindi Raziamo Anche questo Che sta qua sopra Non mi ricordo Se era questo O l'altro Qualcuno Mi dà una mano Con il tizio Che sta qua Che mi sta dando Fastidio Niente Aspettate che forse Non è questo Dobbiamo rompere Quest'altro Vedete Vediamo un po' Vai Iron Man Vai Vediamo un po' Ok Sta qua dentro Sta qua dentro Perfetto Non dovevi morire Però Iron Man Sali un po' sopra Vai Sali un po' sopra Ok Così dovremmo averli Becchiati Tutti ma proprio Tutti Quindi ci vediamo Direttamente Alla fine Per vedere Che cosa abbiamo Sublocchiato Ok Finalmente Siamo arrivati alla fine Porca miseria Su alcune cose Sono leggerissimamente Peggiorate È la terza volta Che ho fatto Questo livello Perché alla fine Si bloccava Vabbè Lasciamo perdere L'importante È che siamo riusciti A raccogliere Tutti i vari Minikit E abbiamo Completato Tutto Comunque Per Avenger L'abbiamo sbocchiato Mattoncino d'oro Quindi prima L'abbiamo sbocchiato Monetine A go go Ma veramente Tantissime Tanto non è più Un problema Minikit tutti Sì Ok Pensavo Me ne fosse Dimenticato qualcuno Perché ormai Era la terza volta Che lo facevo Sto cavoli Bello Fumetto Captain Marvel Bello Stelli ti abbiamo liberato Quindi stai zitto Personaggio sbocchiato Inferno Questa miseria Questo deve essere bello Lo andremo sicuramente Poi a vedere Ok ragazzi Quindi anche questo livello L'abbiamo completato Al 100% Naturalmente Come è stato Un bel commento Un bel mi piace Noi ci vediamo Nel prossimo video E bye bye